Mi chiamo Rita Felicità, Novelli, cognome anche Novelli e sono piemontese, sto bene dove sono, ho il mio orto con la verdura, un po' di frutta, abbiamo abbastanza terreno, abbiamo anche il bosco da fare la legna per la stufa. E a quelli che vogliono toglierti la tua identità, la tua cultura, la tua lingua, cosa dici Rita? Che non va bene? Non va bene, certo, noi viviamo bene così, dovrebbe sempre essere così, la modernità a volte non mi piace di nessuna parte.